Da cento anni assicuriamo il futuro degli italiani, perché le speranze e i vostri sogni sono cresciuti con noi. Ogni storia ne contiene tante altre, nella nostra ce ne sono milioni. La cattiveria è sottoporta, per il resto credo che abbiamo fatto tutti bene. Una partita con un'attenzione diversa rispetto alle altre, dove non abbiamo concesso quasi nulla agli avversari e abbiamo avuto diverse occasioni noi. Però uscire da due sconfitte consecutive non era facile, specie su un campo come Pagani. Ci siamo riusciti a cambiare rotte e ora dobbiamo cercare solo di ricominciare a vincere in casa da domenica. Ha messo in campo un 3-5-2, modulo insolito, modulo da trasferto. Ora con il reintegro di Simone Massini si potrà tornare al vecchio modulo, il 3-4-2-1, che ha dato identità alla sua formazione. Beh, normale. In casa giocherò sempre con le tre punte. Poi può arrivare Benevento, Perugia, Vellino e chi... In casa si gioca sicuramente con i tre attaccanti. In trasferta può darsi che cambierò qualcosa in qualche partita, però credo che il vero modo di accadanzare è il 3-4-2-1. Domenica arriverà l'Andria, una formazione rognosa, che si metterà lì dietro, pronta a ripartire, ad aspettare il Catanzaro. Lo scorso anno sono state varie le formazioni che ha affrontato, che avevano questo modo di giocare. Ha già pronte le contromosse? Beh, è normale. Noi dobbiamo cercare di fare gol e di subire il meno possibile. È normale, sarà una partita difficile, c'è da soffrire, però sono convinto che domenica possiamo ritornare alla vittoria.